Benvenuti, benvenuti ad Assemblea Onet. Il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa regionale. In questa puntata parleremo di PNRR in chiave regionale, di emergenza ucraina, di trasformazione digitale e di risparmio energetico degli edifici. Ma cominciamo con uno degli argomenti di maggior rilievo per le politiche regionali dei prossimi anni, i fondi del PNRR riservati proprio all'Emilia Romagna. Vediamo il servizio. Per la prima volta l'Europa ha finanziato con debito comune uno straordinario piano di investimenti di cui l'Italia è il più grande beneficiario. Come Regione Emilia Romagna, quindi anche con la collaborazione delle commissioni assembleari, forti anche di quella che è la nostra capacità di utilizzo delle risorse strutturali europee. Vogliamo dare il nostro contributo per l'efficace messa a terra perché queste risorse diventino opportunità di crescita sostenibile e inclusiva per tutti i nostri concittadini. Viaggia lungo le direttrici della transizione ecologica e digitale e dell'inclusione sociale l'attuazione del PNRR in Emilia Romagna, dove sono attese risorse per 3,8 miliardi di euro. Se ne è parlato nella seduta congiunta delle commissioni assembleari bilancio e politiche economiche, nel primo incontro del coordinamento sul PNRR che avrà il compito di monitorare un percorso che ha già coinvolto 230 amministrazioni. Per l'occasione hanno partecipato alla seduta la ministra per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, in videocollegamento, e il presidente della regione Stefano Bonaccini. La straordinaria occasione verrebbe da dire irripetibile, anzi certamente sarà irripetibile, dal punto di vista delle opportunità che offre l'Italia, per quantità di risorse messe a disposizione. I primi bandi per l'aggiudicazione dei fondi sono già partiti e altri sono in arrivo. Sarà dunque importante supportare gli enti, soprattutto i comuni più piccoli, nella progettazione e rendicontazione dei fondi. Queste attività richiedono risorse e competenze anch'esse straordinarie. L'idea è quella proprio di collaborare insieme, per fare cosa? Per dare la possibilità a tutti i territori, a tutti i sindaci, a tutte le realtà del nostro territorio, dare la possibilità di non sprecare neanche una risorsa. Quindi aiutarli sui bandi, aiutarli nel momento dell'attuazione. È un momento storico, bisogna prendere ogni euro destinato alla nostra regione. Il coordinamento delle commissioni bilancio e politiche economiche, affidato appunto a Valentina Casteldini, si riunirà periodicamente per monitorare l'attuazione delle varie fasi del PNRR in regione e verificare che non ci siano ostacoli nella cosiddetta messa a terra dei progetti. Le risorse sono immense e dobbiamo essere in grado di poterle intercettare su progetti fattivi. Una delle note negative che noi abbiamo sollevato è sicuramente quella della semplificazione. Dobbiamo agevolare quegli enti che dovranno partecipare ai bandi affinché poi effettivamente riescano a reperire risorse attraverso le progettualità. Questo è il nodo fondamentale sul quale noi chiediamo ovviamente anche alla regione una semplificazione importante e allo Stato di dare la possibilità ai comuni e alle regioni di intervenire in maniera in prima persona. E adesso andiamo in collegamento con la sede dell'Assemblea Legislativa dove c'è per noi Margherita Giacchi. Sì Isabella, questa settimana le commissioni hanno lavorato in sinergia con numerose sedute congiunte. Lo abbiamo visto appunto con il PNRR ma anche con diversi temi, in particolare quello legato all'emergenza ucraina. Le commissioni territorio, cultura, sanità e parità hanno infatti avviato una discussione su un progetto di legge poi votato anche dall'Aula che ha come obiettivo l'accoglienza di profughi e sfollati dell'Ucraina. La legge prevede interventi a carattere umanitario, di cooperazione, di ricostruzione, di supporto educativo ai minori e anche di assistenza sociale e sanitaria. Nelle informative della Giunta, nelle commissioni è emerso anche un dato particolare. Rimini con i suoi 3.300 profughi è la città in Italia che ne accoglie di più. Ma entriamo nel merito con il servizio di Luca Govoni. Continua a crescere il numero delle persone che fugono dall'Ucraina. Quasi un quarto di profughi in arrivo nel nostro paese si trova in Emilia-Romagna. Altissima la percentuale di donne e bambini. L'Emilia-Romagna sta gestendo una situazione inedita per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi ucraini soprattutto in due realtà come Bologna e Rimini che vedono presenti comunità inserite e integrate nei loro territori di cittadini ucraini che si sono trasferiti nel tempo e che oggi hanno aperto le porte a amici, parenti, conoscenti e che quindi hanno accolto per primi tutte queste persone che ovviamente fuggono e fuggono dalla guerra. L'emergenza in corso comporta sforzi straordinari e chiede risposte tempestive. Il punto sulle iniziative attivate direttamente o coordinate dalla Regione è stato fatto in una seduta congiunta di quattro commissioni assembleari territorio, sanità, cultura e pari opportunità dove sono intervenute la vicepresidente Alice Line e le assessore Irene Priolo e Paola Salomoni. La Regione Emilia-Romagna sta facendo la propria parte fino in fondo lo sta facendo ovviamente con convinzione per dare una mano al popolo ucraino e a tutti i profughi che stanno arrivando. Io credo che l'elemento però da sottolineare soprattutto sia che questa accoglienza di cui l'Emilia-Romagna è sempre protagonista debba essere riservata in questo caso ovviamente al popolo ucraino ma in generale a chi scappa dalle guerre. Intanto la generosità degli emiliano-romagnoli si è manifestata anche con la raccolta fondi Emergenza Ucraina promossa dalla Regione, raggiunti oltre 2 milioni di euro. Una nuova legge, deliberata dall'Assemblea Legislativa gestirà i fondi con misure per affrontare il presente e una strategia per essere pronti una volta terminato il conflitto. L'accoglienza appunto dei profughi in Emilia-Romagna un sostegno alle ONG che si occupano di cooperazione internazionale e poi perché no, guardiamo anche al futuro, parliamo di ricostruzione quando sarà possibile, oggi evidentemente non è possibile vorremmo anche qui giocare la nostra partita con magari un impegno nella ricostruzione di una scuola piuttosto che di una struttura sanitaria o di un luogo di teatro di socializzazione. E sulle misure previste si focalizzano il distingo delle opposizioni. Queste persone vanno aiutate così come vanno aiutate però le famiglie, gli enti locali che stanno costruendo anche questo sistema d'accoglienza. Sì il terzo settore ma non solamente quello quindi pongo una forte cento importante anche su quelli che sono gli aiuti territoriali che passano dai comuni e le famiglie che si sono resi disponibili ad ospitare. L'Assemblea Legislativa terrà monitorate le diverse attività in campo per l'emergenza. Anzitutto l'assistenza sanitaria e l'accoglienza anche nella forma diffusa che si avvale della disponibilità di tante famiglie e poi l'inserimento scolastico, la mediazione linguistica, il supporto psicologico e quando sarà possibile il lavoro. Al contrario dell'immigrazione anche regolare che abbiamo sempre contrastato per quanto riguarda i profigo ucrani siamo ovviamente di fronte a uno scenario completamente nuovo. Moltissime donne e bambini che stanno scappando dalla guerra vanno accolti e inseriti nel nostro tessuto connettivo e sociale. Fratelli d'Italia su questo non farà nessun tipo di passo indietro, non avrà tentennamenti. Ovviamente ci auguriamo che possa essere una situazione provvisoria. Sempre in Commissione Cultura i consiglieri hanno votato a favore di una risoluzione di Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle. Un documento con cui la consigliera chiede alla Giunta di impegnarsi a organizzare spettacoli il cui ricavato venga poi devoluto in beneficenza per il popolo ucraino. E anche di valutare borse di studio per danza, spettacolo, per le arti considerando la grande tradizione del balletto in Ucraina. Quindi per questo la consigliera chiede misure di sostegno anche di privati per aiutare i profughi ucraini che studiano danza perché possano proseguire i loro studi anche in Emilia Romagna. Sentiamo Piccinini. La situazione è molto complicata. Noi abbiamo il dovere di sostenere anche questi talenti. Sappiamo che la danza è un'attività molto praticata in Ucraina e abbiamo talenti anche di fama. E io credo sia importante anche da parte della Regione dare dei segnali di sostegno in questo senso con gli strumenti che sono a disposizione. Cambiamo argomento e parliamo di trasformazione digitale. A partire dallo sviluppo delle infrastrutture di rete fino alla gestione emessa a disposizione dei dati in formato aperto, i cosiddetti open data. Sono alcuni degli obiettivi su cui punta la Regione per rendere i servizi più efficienti e semplificati ai cittadini, alle imprese e alle stesse pubbliche amministrazioni. Il percorso fin qui realizzato è stato al centro della valutazione delle commissioni assembleari, bilancio e politiche economiche. Vediamo il servizio. Le commissioni bilancio e politiche economiche in una seduta congiunta hanno esaminato i risultati della legge sullo sviluppo regionale della società dell'informazione in materia di digitalizzazione. La Regione Emilia-Romagna ha prodotto risultati soddisfacenti nell'ultimo anno, anche se ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare. Entrando nel merito delle sfide per potenziale la digitalizzazione, l'assessore all'agenda digitale Paolo Salomoni ha spiegato che l'Emilia-Romagna ha una media più alta di quella italiana nella percentuale di comuni che mettono a disposizione dataset in open data. Bene anche la conservazione digitale. Il PARER, Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna, alla fine del 2021 ha raggiunto oltre 2 miliardi di documenti digitali conservati, non solo della Regione, ma anche di altri enti. È una Regione che ha investito sull'infrastruttura, è una Regione che investe sulla scuola, sulle aree industriali, ma anche nei servizi. Abbiamo le competenze, abbiamo le strutture, abbiamo un sistema che rema tutto dalla stessa parte, quindi sicuramente nei prossimi tempi, nei prossimi mesi, vedremo risultati ancora migliori di quelli raggiunti ad oggi. Allo speed di Lepida sono attualmente registrati 1,2 milioni di utenti e il 31 marzo verrà completata la migrazione su app. La popolazione più anziana sarà guidata grazie ad accordi con strutture del terzo settore e con i sindacati dei pensionati. Obiettivo della nuova agenda digitale è la totale copertura con banda ultralarga delle imprese per favorire la trasformazione digitale. Ma secondo Marco Mastacchi di Retticivica restano grosse criticità nelle zone montane e periferiche. Nella mia memoria di sindaco negli anni 2018-2019 ricordo che più o meno la regione Emilia-Romagna diceva le stesse cose. Purtroppo sono passati due anni di pandemia che hanno fatto emergere tutte le difficoltà e non si può che non essere non soddisfatti di una situazione come questa. Speriamo che veramente la regione dia un colpo di reni e risolva questa situazione che è veramente grave. E torniamo in collegamento con Viale Aldo Moro da Margherita Giacchi. In Commissione Bilancio si è chiusa la sessione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo in tema di prestazione energetica degli edifici che dovranno raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e rispondere a una serie di requisiti per migliorare le prestazioni energetiche. Nel quadro delle iniziative di attuazione del Green Deal europeo e integrazione del pacchetto Pronti per il 55%, la proposta della Commissione europea ha l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica nel settore dell'edilizia. Ma sentiamo su questo argomento la consigliere di Europa Verde, Silvia Zamboni. È importantissimo il tema dell'efficientamento energetico degli edifici che da soli consumano il 40% di energia nell'Unione europea. Quindi sono responsabili del 36% di emissione di anidride carbonica, il gas serra più diffuso. Quindi rendere gli edifici efficienti con degli interventi è importante per ridurre il consumo di combustibili e anche per alleggerire le nostre bollette. La Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, Emma Petitti, ha ricevuto l'incarico di coordinatrice in materia di pari opportunità e di genere in seno alla conferenza delle Assemblee Legislative Regionali. Il conferimento è avvenuto nel corso dell'ultima seduta plenaria della conferenza che si è tenuta a Torino. Tra le priorità individuate da Petitti per il suo nuovo incarico, le criticità che si sono aggravate con la pandemia e che riguardano l'occupazione e la parità salariale, le discriminazioni e le violenze che costringono le donne in una condizione di svantaggio. Sentiamo Petitti. Un lavoro che porterò avanti con tutti i membri dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna e che ci responsabilizza rispetto all'impegno che questa regione già attraverso la legge sulla parità e attraverso i provvedimenti che abbiamo approvato in aula ha già compiuto in maniera importante. Oggi questo lavoro si realizza e si realizzerà anche insieme alle altre regioni di tutta Italia. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci su queste frequenze.